GF VIP, Giaele Dedona smentisce Oriana Marzoli, il mistero foto in cui manca Nikita Pelizzon Cosa faranno gli autori? Scoppia la polemica al grande fratello VIP. Sul sito ufficiale del programma è comparsa una notizia in cui si dice che Oriana Marzoli avrebbe lamentato il fatto di aver scattato una foto con tutti i concorrenti delle reality show d'eccezione di Nikita Pelizzon durante i festeggiamenti del suo compleanno. Fin qui tutto piuttosto regolare, se non fosse che i fan della ragazza triestina hanno trovato un altro video in cui Giaele smentisce le parole della Marzoli. Quale sarà la verità? E cosa farà ora la produzione? Gli autori modificheranno quanto scritto sul sito? Foto credits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emulsion Italy, music, mose from Benzund. Come leggi anche, Nikita obbliga Oriana a farlo davanti a tutti, il gesto che porterà Nikita in finale. Cosa ha dovuto fare? Grazie. Grazie.